Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione su Telecittà. Andrea Crisanti non perde occasione per criticare asparamente gli annunci sulla gestione del Covid da parte del nuovo governo guidato da Giorgia Meloni. Stavolta il micobriologo dell'Università di Padova ce l'ha con il nuovo Ministro della Salute. Non conoscevo il Ministro, riferisce Crisanti, ma se penso che la prima mossa sia quella di togliere le mascherine dagli ospedali, allora mi permetto di dire che di sanità pubblica non ne capisce nulla. Questa è la grave accusa al successore di Roberto Speranza. Siamo in una situazione di equilibrio grazie ai vaccini, ma il Covid non è sparito. Non scordiamoci che la nostra priorità resta proteggere i fragili. In ospedale e nell'RSA ci sono proprio le persone più deboli. Togliere le mascherine è una misura da analfabeti di sanità pubblica, ribadisce Crisanti. E restiamo in argomento di Covid andando a leggere i numeri di oggi in Regione. La giornata di ieri ha registrato una decisa flessione dei nuovi casi di Covid-19 in Veneto, 796 contro i 2.625 di sabato. Da settimane il dato giornaliero non scendeva sotto quota mille. Si contano però anche sei vittime, lo rileva il bollettino della Regione. I numeri totali da inizio pandemia montano a 2.420.941 casi e 15.709 decessi. Continua a scendere il dato degli attuali positivi. Sono 53.631, meno 512 rispetto a ieri. Mentre sono pressoché invariati i dati clinici. Sono 1.061 i malati Covid ricoverati in area medica e 36 quelli in terapia intensiva. Cronaca. Ed è purtroppo una brutta cronaca. Un pilota di motocross, Andrea Simeon, un 26enne di Sernaglia in provincia di Treviso, ha perso la vita ieri sulla pista Tazio Nuvolari di Mantua durante una prova del campionato regionale nord-est, ultima gara della stagione sullo sterrato mantovano. L'incidente è avvenuto attorno a mezzogiorno poco dopo la partenza della gara riservata alla sua categoria. Il pilota che correva per il club Treppini di Montebelluna, nell'affrontare una salita ha perso il controllo della moto che si è impennata finendo fuori pista. Il pilota è stato trascinato nel volo che si è concluso contro un albero che si trovava al di fuori del circuito a decine di metri di distanza. Ai primi soccorsi le condizioni del giovane sono subito apparse molto gravi. È intervenuta un'eliambulanza da Brescia ma viste le condizioni del pilota si è preferito trasportarlo all'ospedale di Mantua dove purtroppo poco dopo è spirato. Ancora cronaca questa volta da Padova. Una volante è intervenuta in zona brusegana a seguito della richiesta di una residente la quale aveva allertato il 113 riferendo che un suo vicino di casa stava lanciando oggetti dal terrazzo. Gli agenti si sono immediatamente avvicinati al balcone cercando di far desistere dal lancio di mobili l'individuo ma questi dopo aver afferrato un portavase in ferro lo ha scagliato addirittura verso di loro senza colpirli. Pochi istanti dopo l'uomo un 56enne di origine rumena ha raggiunto in strada gli operatori in vendo impetuosamente contro di loro mentre ormai fuori controllo ha tentato pure di colpirli. Dopo numerosi evasi e scusate evani richiami alla calma accertato che non vi era alcuna possibilità di dialogo uno di due agenti ha avviato la procedura di utilizzo della pistola a impulsi elettrici riuscendo a fermarlo definitivamente e a porlo in sicurezza. L'uomo è stato tratto in arresto per resistenza, oltraggio e minaccia pubblico ufficiale e sottoposto come da procedura alle prime cure del caso da parte del personale del 118. E cambiamo argomento ci trasferiamo in provincia di Treviso nella serata di ieri un'abitazione a Nervesa della battaglia per cause ancora al vaglio degli inquirenti ha preso fuoco. Un uomo è riuscito a trarre in salvo la famiglia. Vediamo le immagini. Una famiglia di 4 persone è finita in ospedale in seguito a un incendio scoppiato nella loro abitazione a Nervesa della battaglia in provincia di Treviso. Erano passate le 22 di domenica quando dal piano terra sono divampate le fiamme. Il fuoco in poco tempo si è esteso ai piani superiori. Sono stati momenti drammatici nei quali il padrone di casa è riuscito a portare al sicuro la moglie in stato di gravidanza e i loro due bambini. Sul posto hanno lavorato 12 uomini dei vigili del fuoco provenienti da Montebelluna, Conegliano e Treviso. La famiglia è stata assistita dal personale sanitario del SUEM. Le squadre hanno spento il rogo già generalizzato che ha completamente bruciato tutto il contenuto dell'intera abitazione. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza della casa, resa inagibile per i gravi danni subiti, sono terminate all'alba di lunedì mattina. Da ricostruire le cause che hanno portato al rogo. Ci trasferiamo adesso a Vicenza, ancora cronaca. Una donna che stava camminando per strada è stata ripetutamente molestata da un cittadino gambiano senza tetto che è stato successivamente arrestato nella tarda serata di ieri in centro a Vicenza. La vittima dopo aver cercato di difendersi dalle violenze ha allertato il 113. Gli agenti giunti sul posto hanno poi ricostruito che l'uomo, con precedenti per reati contro il patrimonio, era la stessa persona che nella mattinata di sabato era stata segnalata dai docenti di un istituto scolastico per i suoi atteggiamenti sospetti tenuti nei confronti di alcuni minori. Uno dei ragazzi era stato seguito per strada fino quasi all'entrata della scuola. L'uomo che ha tentato di divincolarsi dagli agenti è stato successivamente bloccato e portato in questura. Dovrà rispondere adesso di violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale. Ancora cronaca e rimaniamo in provincia di Vicenza sull'altopiano a Pilastro di Lusiana. Grave incidente. Un giovane è stato ricoverato in codice rosso. Sentiamo. Incidente stradale lungo la strada provinciale 69 in località Pilastro a Lusiana in provincia di Vicenza. Un'auto è finita rovesciata sulla careggiata dopo la perdita di controllo del conducente, rimasto ferito. I pompieri arrivati da Asiago hanno messo in sicurezza l'automobile ed è estratto il giovane autista che è stato preso in cura dal personale del SUEM, stabilizzato sul posto e trasferito in codice rosso all'ospedale di Bassano del Grappa. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Visti i gravi fatti di attualità riguardanti le violazioni dei diritti umani in Iran, la rete è in difesa di e i comuni del nodo territoriale della rete, Ponte San Nicolò, Rubano, Montegrotto, Terme e Abano, Terme, con l'Unione per la Democrazia in Iran, le Mille Una Notte IPS e in collaborazione con l'Assessorato ai Diritti Umani del Comune di Padova, propone una serata pubblica di approfondimento con testimonianze dirette di persone iraniane che si trovano attualmente in città a Padova. L'incontro dal titolo Donna, vita, libertà, tre generazioni parlano di ira si svolgerà giovedì 3 novembre alle ore 21 in Sala Livio Palladin, Palazzo Moroni, via del municipio a Padova. Modererà l'incontro Paolo De Stefani, Centro di Ateneo per i Diritti Umani, Antonio Papisca, Università degli Studi di Padova. Sono tornati ad immergersi nella giornata di ieri i volontari dell'Associazione di Categoria Gondolieri di Venezia che hanno effettuato la pulizia manuale dei fondali di Rio Marinha nel sestiere di Santa Croce. Come nelle precedenti occasioni, i 12 gondolieri e i tecnici del Comune hanno individuato la zona in cui effettuare l'immersione. Gondolieri Sub. Nei giorni scorsi, infatti, la Giunta Comunale ha approvato la delibera che contiene gli indirizzi per la realizzazione di un nuovo ciclo di interventi gratuiti per altri due anni. I rifiuti recuperati, che saranno tutti correttamente smaltiti da Veritas, erano di varia natura. È stato trovato tra l'altro un ventilatore, due griglie di ferro, una bacinella di acciaio, un blocco di pietra d'istria, un monopattino, centinaia di bottiglie, una lastra di vetro, vario materiale edile e pezzi di ferro per un totale pensate di circa 5 quintali. E rimaniamo adesso a Padova. Partono i lavori del quarto lotto per il completamento del Parco Comunale Inclusivo Albero del Tesoro. Il progetto è uno tra i più avanzati del Paese per accessibilità e di inclusione. Vediamo il nostro servizio. L'assessore al verde del Comune di Padova, Antonio Bressa, nei giorni scorsi ha fatto visita al cantiere del Parco Comunale Inclusivo Albero del Tesoro, accompagnato dal Capo Settore e dalla Direttrice Generale della Fondazione Robert Holman, ente capofila del progetto. Il Parco Comunale Inclusivo è il primo della città realizzato grazie alla coprogettazione di ben 17 enti del no profit, impegnati nell'ambito dell'inclusione e della disabilità e che continuano ad affiancare l'amministrazione per portare a compimento quest'opera pubblica che intende essere un vero e proprio manifesto dell'inclusione e un esempio condivisibile di buona prassi del segno delle relazioni tra generazioni e nella promozione della coesione sociale. Da tempo il Comune di Padova e gli enti coinvolti stanno lavorando in merito alla futura gestione del Parco Comunale. Negli ultimi mesi vi è stata la messa a dimora di siepi e alberi, ultimazione di tutte le aree di gioco e nelle ultime settimane semina dell'erba e la conclusione della tinteggiatura ad alto contrasto cromatico dei camminamenti. I lavori del quarto lotto, finanziati a novembre 2021 con 460 mila euro da parte del Comune per il completamento dell'opera pubblica, prevedono realizzazione di una zona aggregativa coperta di circa 100 metri quadri, una scoperta per attività aggregative e completata da una pergola bioclimatica. La pista ciclabile per collegare Via Siena a Basso Isonzo passando per il Ponticello sul Canale Bassette, la recinzione e l'illuminazione di tutta l'area del Parco, ma anche un percorso vita all'ingresso del Parco dalla parte di Via Siena per lo sport accessibile e il movimento in libertà immersi nel verde. Percorsi sensoriali con installazioni tattili, sonore e olfattive, installazione dell'arredo urbano e inoltre orti a terra, un piccolo frutteto. ARPAV comunica che a partire da domani, martedì 1 novembre, scatterà il livello di allerta 1, il cosiddetto arancio, per la concentrazione di PM10 in atmosfera nel territorio del Comune di Venezia. La misura si attua dopo quattro giorni consecutivi di superamento del valore limite consentito per il PM10. Si tratta di una misura presa secondo quanto previsto dall'accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano e come integrato dalle direttive governative. E come di consueto, diamo un'occhiata in chiusura al meteo, sta per terminare l'eccezionale estensione verso le nostre latitudini dell'anticiclone subtropicale africano. I prossimi giorni saranno all'insegna di umidi correnti di origine atlantica, configurazione indubbiamente consona al periodo. Le caratteristiche meteorologiche salienti saranno la discesa delle temperature in pianura limitatamente alle ore diurne, mentre sui monti anche nelle ore notturne e poi l'arrivo di precipitazioni, specialmente nella giornata di venerdì. Vi ricordo che subito dopo la sigla andrà in onda un breve approfondimento sul PMA, la procreazione medicalmente assistita. Manderemo in onda un'intervista realizzata da Erika Bortolato alla dottoressa Marina Castelli, embriologa del Centro di Medicina di Sandona di Piave e KIP del dottor Tomei. È tutto anche per oggi, come di consueto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con i programmi di Telecittà. a e Grazie a tutti.